Avanzi una... Oddio questa! Se la ricorda, sì? E chi si è scordata? Sono quattro giorni... Sono quattro giorni che sta in fila, eh! Buonasera, Paolo! Buonasera, Olimpia! Buonasera, Olimpia! Spiego alle persone a chiave! venite davanti al televisore da lontano sembra un film porno è una concorrente che ha sta cosa con calma dobbiamo comunque fare delle domande capisce? ok buonasera Olimpia buonasera Paolo sono Olimpia madonia ho 39 anni vengo da Osti sono venuta con mia sorella sono venuta con mia sorella quale? quale? è quella? aah 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 sono sposata con Damiano è sposata aah 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 mamiano coraggio dica dica ho due bambini ha due bambini Giuseppe di 177 mesi di 177 mesi quanti cazzarola di anni sono? no scusi lavora in un call center lei pronto? aah è Nicola di 156 è Nicola di 156 di 156 mesi e poi lavoro in un call center e faccio assistenza clienti e volevo salutare il mio capo che mi ha permesso di venire qua ma quello non vedeva che non vedeva dove se andava Andrea Agnese Giulia e all'olita e l'olita ma quanti capi c'ha? no uno agli altri li ho salutati per contorno ah le dispiace se ci fermiamo e le facciamo del tavor? aah 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 aah